Prudenza, tanta prudenza ma anche tanta speranza per padre Paolo Dall'Oglio, il sacerdote gesuita di cui si sono perse le tracce a Racca in Siria nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2013. Ha risvegliato l'attesa di un ritorno a casa la notizia apparsa ieri sul sito del quotidiano britannico The Times, secondo la quale lo Stato islamico assediato a est e a sud-est della Siria dalle forze curdo-arabe e dagli americani starebbe trattando un salvacondotto in cambio del rilascio di tre ostaggi. Il giornalista britannico John Cantley, un'infermiera neozelandese della Croce Rossa e appunto l'italiano padre Paolo Dall'Oglio. La notizia è poi stata smentita dall'osservatorio siriano dei diritti umani e da alcuni capi militari curdi. Per la Santa Sede bisogna avere riscontri su quanto scritto ieri. Finora infatti sono arrivate informazioni contrastanti sulla sorte del sacerdote di 64 anni di cui tra l'altro non è mai stato rivendicato il sequestro. Comunque nell'area di Deir Erzur, dove si troverebbero i tre scudi umani, ci sono circa 500 miliziani dell'ISIS e forse anche il leader al-Baghdadi. E proprio in quella zona, fatto sapere questa mattina l'agenzia ANSA, continuano i bombardamenti della coalizione anti-ISIS a guida americana. A marzo saranno otto anni dall'inizio della guerra in Siria, dove finora sono morte mezzo milione di persone.